Open day attraverso pazienti dal web, ecco come realizzarlo. In molti hanno letto l'articolo sul blog di Federico Tirone, riguarda l'open day che abbiamo realizzato per loro e altrettanti di voi si saranno chiesti ma come diavolo ha fatto a chiudere 109 mila euro di preventivi in un solo giorno con un open day? Per comprendere bene di che cosa si sta parlando in questo video analizzeremo insieme le tre differenze tra l'evento tematico realizzato da noi e l'open day tradizionale. Differenza numero 1, il nostro evento tematico non si rivolge a pazienti dello studio ma a potenziali pazienti provenienti dal web, in questo caso da Facebook e Instagram. Quindi per inciso non è la solito solfa di Invisalign da promuovere sui tuoi già pazienti. Differenza numero 2, l'introduzione di tematiche finora inesplorate come appunto l'implantologia. Sembra assurdo ma se si riesce a comporre una proposta valida e interessante anche gli anziani o gli edentoli verranno in prima visita con tutta la motivazione possibile. Differenza numero 3, l'evento viene costruito attorno a protocolli proprietari, script e funnel testati su decine di studi, per cui non si improvvisa nulla. Ogni aspetto è stato protocollato al fine di ottenere dei risultati replicabili e misurabili. Tutto è codificato, persino la proposta. Ma all'atto pratico a vendere preventivi non ci siamo noi ma ci sarai tu o il tuo staff. Per cui va da sé che noi ti metteremo davanti a un pubblico target. Ma il risultato dipenderà molto dall'expertise della parte commerciale. Vuoi ottenere più pazienti e vuoi più informazioni a riguardo? Contattami attraverso il sito www.markedanzia.com